Buonasera, buonasera, come va, come va? Tutto ok, tutto ok. Torna Juric da vincitore nell'ultima partita, dente godi di quest'anno, cos'è da arrivare? È dispiaciuto, presidente? Ah no, fischio, sono proprio, guarda, una contentenza, guarda, appena finita la partita ho fatto i salti mortali con doppio carpiatto, una contentenza. Cioè, guarda, negli spogliatoi abbiamo sciabolato una magnum di fastidio millesimato del 2012. Bellissima questa. Ho pensato, sono proprio contento che ha vinto Juric, guarda, che dopo aver passeggiato allegramente sul mio sacchetto scrutale per l'intera stagione scorsa, e diceva, guarda, se li meritava proprio sei punti tra andate e ritorno contro il Grecia-Verona. Guarda, è stato proprio un bel sabato del calcio. Eccolo! Con Juric com'è stata l'accoglienza anche fra di voi? Vi siete visti, vi siete salutati, vi siete ignorati? E dire, fare, baciare, lettera di testamento. Sì, ovviamente, ovviamente ci siamo incrociati, ci siamo guardati, così, un sorriso di circostanza, poi insomma, ovviamente non potevo mica star zitto, no? Allora gli ho detto, ancora tu? Ma non dovevamo vederci più. No, vabbè, adesso... E come stai, dimmi, come stai? Sei più giovane? O forse sei solo più simpatico? E come stai? Stai come me? E poi, insomma, così, ci hai scappato da ridere. Ci hai scappato da ridere. Comunque l'abbiamo visto commosso, Juric, abbandonato la sala stampa, insomma, ancora amore per la nostra città, per Verona. Eh, insomma, certi amori, insomma, non finiscono, no? Fanno dei giri in meci, poi ritornano, perché sono amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. È una canzone, così. È abbastanza. Ma amici mai, vè? Ma amici mai. Ma amici mai, soprattutto perché si cerca come noi. Penso che prima di salutarvi ci ho detto, Ivan, dimmi tre parole. E lui mi ha risposto, solo il cuore e amore. Ed io ovviamente mi sono emozionato. Eh, beh, credo. Invece, Presidente, è il momento un po' di guardare anche la prossima stagione. I tifosi sono un po' preoccupati per D'Amico, che, insomma, sembra avviato verso Bergamo. Tudor, che ha fatto tanto bene, non ha ancora lasciato trappelare nulla sul suo futuro. Possiamo tranquillizzare in qualche modo i tifosi dell'Ellas, Presidente? Allora, io i tifosi dell'Ellas voglio dire state calmi se potete. Tutto si sistemerà. E soprattutto, quando tornate a casa, date una carizza ai vostri tifosi. Sì, è papa adesso. E dite loro che andrà tutto bene. Sì, sì. E se non riescono a dormire, perché prendono sonno, non c'è problema. C'è filtro fiori, bonumelli, con l'aggiunta di melatonine e senza olio di palma di maioca. E se per caso di notte, così si alzano, insomma, che devono fare, il rimedio è prosto e basta. Ma che è una pubblicità. Ai bambini. E' ronfi che è un piacere. Quindi vedrete, papà Maurizio sistemerà tutto. Ora, chiudete gli occhi e fate le nanne, che papà Maurizio ci pensano. Stefano, da Isola della Scala. Presidente, e la bionda, la bella stroppa, dov'è là? Allora, cioè, caro Stefano, se fai un giro per caso in città, a Lella Store, abbiamo fatto una macchinetta per farti i cazzi tuoi. No, no, no. Marchiata con il logo, no? Proprio marchiata con il logo del Grecia Verona. Presidente. Compra, va che a un piacere, va sia col bluetooth, col wifi, eccetera. Quindi non resti mai scendito. La puoi ricaricare anche nella Cingli Cingri, capito? Ah, sì. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, i fattorini di Verona, Airforte, la fal.zero serramenti.